Alla prossima in attacco, apposta il fondo blocco di Weaver che taglia, se lo prende Barba, buona rotazione di Carroll, che non basta per Weaver, si muove molto bene in semplante, spiazza a terra per Carroll, che palla di Carroll per Ocris! La regia di Venezia, l'ombre per Weaver, di controllo e mezzo a due avversarie, questa volta la schiacciata, doppiato Gnasky, ribalta l'inter, secondo spazio per Gordini, che tira altre foglie, segna per Rante per bloccare, partanti vicende, fanno l'angolo, dove c'è Gnasky, che prende, spara! Gnasky, intanto per Mario Ferrara, con la maglia al mando, ma lui che taglia, e riceve l'ottimo assist di Mastro per l'advento, Gersetti, accoppiato, spalla a canestro Marco Laganato, porta di giro a canestro, di forza, Gersetti che si gira, Gersetti va con il tuo aggressivo, perché di scendere Laganato, spazio per il giro a tre, molti! La mani per lì, con Codegna, per le scelte situazioni che cerca di approfittare di questa aggressività, e infatti va bene, mentre mantiene in avvicinamento, va a Bersaio con il cene, spalla a canestro contro Ferrara, ribaltamento per Laganato, che tira e scelta ancora! Coppins e Coppins si trova, torna fuori, Cortesi prende e spara sulla sigla, 24 o 6 secondi per l'attacco di Piela, posparso di Coppins, che si gira, tira e segna, attacca il close out di Cortese, con il serve Carroll che tira da tre! Quattro e cinque della sua punti, ritrova a punti di enorme difficoltà, vicinissimi atti di Mastro, un bene tra scarica per Mendo, ma extra passaggio per Cortese, che l'assegna, attenzione perché c'è la linea di fondo, completamente sguardita per Gersetti, torna sul 221 Piela, Bonaccino, Luper, gran palla, cento in fallo! Bonaccino lo attacca, lo batte, va al ferro, segna! Caricca nell'angolo per un viverissimo Bertetti! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Pagna parte per bloccare, due per un attimo passaggio, Amorana, Gerona anticipa la palla, diretta Carroll! Va con il suo, a prendere l'angolo per sempre, che trova l'alto basso, infatti riceve, appoggia il tabellone, il boccio di Piela, e poi, che ha sentito, d'Italia, prende una spazio per il tiro a tre punti, lo prende, l'agana sempre far fatto, grande, lettura di Laganà, parla tutto qua! Poi recupera sul lungo, Pieloce si allarga, tira da tre punti, in attenzione, Cerone vuole andare al ferro, e segna a fronte, tripla di Cortese, diventa quasi un assist per Wilber, che tira cadente, infietro, e se il colloquio Cortese non si fa da terra, c'è dentro, manca l'aiuto di Dalmella, e dal final di Pielo, Laganà con due secondi, si prende il tiro, lo segna! E' un giro, che alla fine riceve, si gira assieme, e si vince anche Bala, un piano a pollo di taglio di Weavering, che scatta l'intensivo da Borazzini, e' un gioco simpatico, si ritrova lì, perché nessuno ruota, e' un gioco simpatico, e' un gioco simpatico, e' un gioco simpatico, gioco simpatico, si alza per la tripla, e' un gioco simpatico, e' un gioco simpatico, il gioco simpatico, si prende il giro dal centro, e' un gioco simpatico, Carol, paletto, e' un gioco simpatico, Grazie a tutti.